Ciao, da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica.net ti do il benvenuto all'audio newsletter di questa settimana. Oggi parliamo di un argomento davvero davvero interessante che alzerà un polverone incredibile. Parlerò della fortuna e parlerò dei grattevinci, del super enalotto, delle slot machine, insomma un po' del gioco legalizzato. Se mi segui da un po' di tempo sai che adoro il lavoro di uno psicologo che si chiama Richard Wiseman e che si è occupato proprio di estrapolare ciò che lui stesso ha definito fattore fortuna o luck factor. Come ti dicevo so per certo che questo post alzerà un super polverone visto il titolo che ho dato all'articolo, come vincere al grattevinci. Ho deciso di registrarlo per due motivi principali. Il primo è legato allo sviluppo personale. Wiseman ha estrapolato la formula della fortuna comprendendone i punti chiave che tutti possiamo applicare. Non per niente un professore serio come Wiseman ha addirittura creato una scuola per diventare più fortunati. Il secondo motivo è in realtà il più importante. Su questo blog non parlo mai o quasi mai di politica, ma di certo parlo un po' di società e di sociologia, visto che la nostra salute mentale e la nostra crescita personale è legata strettamente a come è organizzata la nostra società in cui è situata, uscendo un pochettino da quell'individualismo anni 80. Guardo di rado la televisione, ma la sera ogni tanto qualche tg e qualche film me lo vedo. E scherzando, l'altra sera ho provato ad osservare con attenzione le pubblicità. Beh, una cosa davvero scandalosa. In un periodo di crisi come questo c'erano almeno due o tre messaggi dedicati al grattevinci per ogni interruzione pubblicitaria. Davvero spaventoso. Per cui, parafrasando un video stupido che si trova su YouTube e che mi ha dato l'idea per questo post, esiste davvero un modo per vincere al grattevinci? Sì, basta non giocare. A parte gli scherzi, l'audio newsletter di oggi è una sorta di contropubblicità, perché non trovo assolutamente giusto che ci riempiano la testa con una finta speranza. Ed oggi scoprirai anche come diventare realmente più fortunato e risparmiare un sacco di soldi. Se non credi nella portata devastante del gioco legalizzato che ora sta sediando il nostro paese, allora fatti un giro nei bar che hanno slot machine e grattevinci o cose del genere. Ma non c'è andare una volta sola. Tornaci e ritornaci e noterai delle persone in preda ad una compulsione ostinata a schiacciare una levetta. Per cui permettimi una piccola digressione teorico-scientifica. Subito dopo i famosi studi di Pavlov sul condizionamento classico, quello dei cani per intenderci, arriva un giovane studente che durante la sua tesi di laurea migliora e modifica il paradigma del suo predecessore. Quest'uomo si chiamava Skinner ed è l'inventore del condizionamento operante. Skinner voleva comprendere l'effetto dei rinforzi, premi, dati o tolti, per vedere come influissero sull'apprendimento. Allora ha messo dei topi in una gabbia. Dentro alla gambia c'era una levetta. In un primo esperimento Skinner ha fatto in modo che ad ogni colpetto sulla leva scendesse una pallina di formaggio, il rinforzo. Inizialmente i topi usavano compulsivamente la levetta, ma appena compreso il meccanismo iniziavano ad utilizzarla a bisogno. Se avevano fame ci davano un colpetto, altrimenti non lo facevano. Mica stupidi sti topi, eh? Dopo diverse varianti di questo esperimento Skinner ha scoperto che il modo migliore per farli apprendere era quello di rendere il rinforzo completamente casuale. Cioè non importava quante volte tirassero la levetta perché il formaggio scendeva a caso. In questo modo i topi impazzivano continuando a giocare con la levetta, proprio come facciamo noi con le slot machine e con i grattevinci. Ecco perché è facile vincere a questi giochi. È facile vincere in realtà pochi euro. Perché se non scendesse mai il formaggio, nessuno inizierebbe quel processo mentale di condizionamento operante descritto da Skinner con i topi. Lo so, lo so, essere paragonati a roditori non piace a nessuno e chissà ai roditori essere paragonati a degli esseri umani. Come dicevo Wiseman non si è limitato a studiare la fortuna, ma ha anche fatto quello che in PNL chiameremmo modellamento. Ha reclutato persone che pensavano di essere davvero sfortunate e persone che credevano davvero di essere fortunate. Dopodiché le ha sottoposte a numerosi test scoprendo alcune caratteristiche psicologiche in comune fra i due gruppi. E adesso te le mostrerò. Primo punto. La fortuna, intesa come pensiero magico, non esiste. Questa è una delle prime rivelazioni scientifiche di Wiseman. Non si tratta di una presa di posizione o di una posizione presa a caso, ma il risultato di numerosi esperimenti fatti con tutte le cose che solitamente si crede portino sfortuna. Passaggio di gatti neri, passare sotto una scala, rompere gli specchi, eccetera. Secondo punto. Chi è fortunato è più rilassato quando svolge un determinato compito. Apprendi una qualsiasi pratica di rilassamento e allenati ad essere concentrato e allo stesso tempo rilassato. Questo atteggiamento serve ad evitare la rigidità che rende le occasioni della vita invisibili a chi si ritiene sfortunato. Terzo punto. Impara a pianificare i tuoi obiettivi. Saper pianificare i tuoi obiettivi permette di non lasciare troppo al caso agli eventi che ci capitano, ricordandoti di mantenere durante il tuo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi un atteggiamento centrato ma allo stesso tempo rilassato per poter afferrare le eventuali opportunità della vita. Quarto punto. Allena le tue doti di comunicatore. Saper comunicare in modo efficace ti permette di condividere al meglio il tuo pensiero con le altre persone. Questo significa anche saper coltivare le proprie relazioni personali perché a volte è proprio da lì che potrebbero arrivare le occasioni d'oro. Quinto punto. Impara a prendere decisioni. Ogni volta che attivi una decisione in realtà stai compiendo, stai pianificando il futuro della tua vita. E noi come sanno le persone appassionate di sviluppo personale alla Anthony Robbins o al nostro italianissimo Roberto Re, non siamo proprio capaci a prenderci la responsabilità delle nostre decisioni. Impara ad utilizzare di più il verbo decidere e a renderti conto che in realtà prendi decine e decine di decisioni ogni giorno. Impara con piccole decisioni e piano piano inizierai a diventare sempre più bravo nel prendere le tue decisioni. Sesto punto. Formati. Se ti piace qualcosa che desideri fare nella vita o che desideri aumentare studiala. Se ad esempio vuoi fare più soldi, cosa che desiderano tutte le persone e in particolare le persone che si lanciano su gratta e vinci eccetera, allora studia come fare più soldi invece di sperare in un colpo fortunato. Sono molti gli studi che provano come persone che hanno vinto la lotteria cifre spaventose, siano ritornate povere nel giro di pochi anni. Sono state sfortunate? No, semplicemente non hanno compreso la vera formula della fortuna che è preparazione più opportunità. Uno può avere tutto il culo del mondo, permettimi il linguaggio, ma se non è preparato molto probabilmente è destinato a fallire, per cui a sentirsi sfortunato. Bene, credo in un qualche modo di essere riuscito a dirti tutte le cose importanti di questo post. Ci tengo a dirti che non c'è nulla di male nel tentare la fortuna con un qualche gioco, anche se personalmente io non lo faccio. Ma è sempre necessario evitare di affidare i propri sforzi e la propria attenzione a queste cose. E se sei un giocatore sai bene, anche nel profondo del tuo cuore, che non ci sia grazia di certo la fortuna giocando compulsivamente. Se sei qui per caso, attratto dal titolo del post, ti lascio con un'ultima riflessione dedicata proprio a te. Lo so che può sembrarti strano, ma esistono davvero abilità psicologiche e non che, se attentamente studiate e applicate, possono farti diventare ricco e felice. Evita di pensare che siano favolette. Si tratta solo di prendere qualcosa che funziona, farlo proprio e applicarlo. La mia controproposta è questa. Ogni volta che ti viene voglia di comprare un grattevinci o di giocare alle slot machine, metti da parte quel denaro e comprati un libro su come fare più soldi, sul business, sul marketing, sulla produttività, eccetera eccetera. Se farai questo, fra qualche tempo sono sicuro tornerai sul mio blog per ringraziarmi. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologianeurolinguistica.net Pubblicità. Mancano meno di due settimane all'evento formativo dell'anno in Italia. Se vuoi investire in qualcosa che può davvero farti crescere, aumentare il tuo tenore di vita e conoscere tante persone interessanti, compreso il sottoscritto, allora iscriviti al forum delle eccellenze. Clicca adesso sul tasto che trovi qui sotto, sotto questo audio o sulla barra di destra del mio blog. Ti ringrazio per aver scelto psicologia neurolinguistica per la tua formazione personale.